I preti si commuovono come Gesù quando vedeva la gente stanca e finita come pecore senza pattore e pieno di tenerezza verso la gente specialmente verso le persone escluse cioè verso i peccatori, verso i malati di cui nessuno si prende cura Il sacerdote veramente misericordioso si comporta come il buon samaritano Ma perché lo fa? Perché il suo cuore è capace di confasione è il cuore di Cristo Il sacerdote 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 è il cuore di Cristo